Sì, sicuramente è una squadra che non ha fatto cadere niente, è una squadra anche in attacco molto molto forte e secondo me a noi è mancata un po' di aggressività e un po' di tranquillità anche che loro hanno dimostrato di avere. Sì, ci sono stati tanti errori e appunto alcuni dovuti al fatto che hanno tirato la battuta e di conseguenza loro non ne hanno fatti o ne hanno fatti veramente molto poco e questo secondo me è stato l'elemento chiave che ha girato la partita. Ci sono sempre questi cali improvvisi che sono dovuti a volte alla ricezione, a volte alla battuta, a volte all'attacco, che con squadre così continue sicuramente hanno un ruolo importante. Sì, io non sono abituata appunto a giocare in B1, quindi appunto non sapevo bene il livello, però sicuramente a un livello alto, proprio, cioè tutte le squadre sono squadre forti, che possono, se la possono giocare con tutti e sì, è molto equilibrato. Sì, sembra di sì, sembra che appunto ci sia un po' più di pressione, un po' più di agitazione che oggi secondo me si è vista. Più che in partita, secondo me, appunto, conta tanto negli allenamenti, ne riuscire a fare un sei contro sei, ne riuscire appunto a trovare, a trovarsi con tutti appunto gli attaccanti, perché è difficile anche girare, però qua è molto bravo Luca a cercare di appunto gestirci. Sì, sono molto contenta, è una bellissima società, ho trovato un bellissimo ambiente e una bellissima squadra, secondo me, e quindi sì, sì, è un'esperienza più positiva. Secondo me ci farà molto molto bene questa pausa, sia dal punto di vista fisico, per riprendere, insomma, alcuni elementi e soprattutto mentale, per creare un equilibrio che secondo me ancora non c'è troppo.